Diciamo che il rapporto con Franco Baldini non c'è mai stato, non c'è mai stato e mai ci sarà, perché se ho preso questa decisione penso che sia normale che ci siano degli equivoci, dei problemi interni della società. Uno di due doveva uscire e mi sono fatto da parte io perché troppi galli a cantare non serve, non servono dentro la società, ci sono troppe persone che mettono bocca su tante cose che fanno solo casini, solo danni, perché ognuno dovrebbe fare il suo e facendo il suo sarebbe tutto più facile per tutti. Però è un gallo che canta da lontano, no non è una tu per tu, poi lascio, cioè tu cantavi nel Pullaio, lui canta da lontano mi sembra, no? Sì, però alla fine quando canti da Trigoria non lo senti mai il suono, l'ultima parola aspettava sempre laggiù, sempre a Londra, perciò era inutile fare o dire ciò che pensavi o ciò che volevi cambiare o ciò che volevi dire, l'ultima parola aspettava là, perciò era tempo perso.